A Sala Consilina Pamela Villoresi, un'icona di questa bellissima arte che è la recitazione. Allora la prima domanda, il mondo non mi deve nulla, che tipo di spettacolo è? Sappiamo che è uno spettacolo agrodolce. Sì, è un noir molto intelligente che dà occasioni di farsi delle buone risate ma anche qualche riflessione. Il mondo non mi deve niente perché il mio personaggio che è un'acropie tedesca ormai in pensione, il mondo non le deve niente perché ho passato la mia vita a fottere il prossimo e ora mi faccio orrore. E quindi è un consuntivo molto amaro quello della vita di questa donna perché ha pensato solo a sé e diciamo un po' anche una metafora dei giorni nostri, ha vissuto solo di effimero, di un mondo fasullo, dei casino sulle navi, ha vissuto in mezzo al danaro degli altri e quindi il suo consuntivo è molto amaro e poi è una donna che sa ascoltare, una persona che sa ascoltare poco, a differenza del ladro che sicuramente è più basic, come si direbbe oggi, è più basico di lei, è molto meno colto però comunque è un uomo che appunto sa imparare, sa ascoltare e quindi sa anche dare risposte diverse dalla vita. Però permettetemi anche di parlare della sorpresa di questo nuovo teatro qui di Sala Consilina che è una meraviglia. Sono rimasta, ho visto il foyer, ho girato, è stupendo veramente, poi quando nasce un teatro per noi è un grande fiocco rosa, quindi grazie della bella sorpresa. Ecco Pamela, attrice, tantissimi film, se ricordo bene, 36 film, 60 spettacoli teatrali, tra cui alcuni distrailer con Gasman, insomma con grandissimi attori, 8 fiction televisive se non sbaglio, però qual è la magia del teatro rispetto agli altri? Beh, in un mondo che è sempre più virtuale appunto, credo che il piacere di vedere un uomo che racconta una storia di uomini ad altri uomini è con momenti unici perché quello che noi siamo una sera con la reazione di quel pubblico lì non sarà mai uguale a quello che facciamo il giorno dopo, no? E questo è lo spettacolo dal vivo, per cui tanto più il mondo va verso il virtuale, tanto più si ha voglia di vedere dal vivo un artista, quindi io credo che in questo senso lo spettacolo dal vivo, qualunque danza, musica, sarà intramontabile. Però devo dire che dopo una vita, una carriera, perché lei ha detto che ci sono tante cose, Mario Luzzi avrebbe detto, sono cose che succedono a chi insiste a sopravvivere. Io, vabbè, ho fatto il libretto di lavoro molto presto, ho cominciato a lavorare a 15 anni, però adesso a marzo sono 46 anni di lavoro, sono tanti, e quindi ho fatto tante cose, soprattutto in teatro, trascurando molto il cinema. Devo dire che dopo la grande bellezza, grazie a Paolo Sorrentino, ho veramente riscoperto il piacere di stare dietro una macchina da presa, per cui ora ci sono degli anni in cui cerco di farmi un po' perdonare, infatti sto girando molti film, anche sceneggiati, e sono contenta. Claudio Casadio, il tuo personaggio è un ex operaio che praticamente perde il lavoro, perde tutto quello che ha. Possiamo dire che era un figlio dei nostri tempi? Certo, questo testo di Massimo Carlotto è stato pensato proprio per questo. È un operaio riminese che viene licenziato a 50 anni, e quindi per rabbia, per disperazione, per necessità comincia a rubare. Trovarsi senza lavoro a quell'età sicuramente è un grande trauma, questo purtroppo è successo in questi anni a tantissime persone. E quindi questa commedia, insomma, vuole anche fare riflettere su questo tema. Un po' lo scopo del teatro, quello di divertire ma anche di lasciare, insomma, pensare le persone. Beh, sai, il teatro ha tanti scopi. È chiaro che quando si sceglie una commedia, e questa è stata proprio scritta per noi, quindi proprio pensata per me e per Pamela Villoresi, bisogna anche cominciare a sentire quello che il pubblico vorrebbe ascoltare, no? Quindi il teatro ha la funzione di fare riflettere, divertire, far sognare. E infatti questo spettacolo, penso, abbia tutti un po' questi elementi, perché è anche magico, poetico, però è molto attuale. Che significato ha arrivare in piccoli centri come questo e trovare un teatro come questo? Ah, io sono rimasto incantato. Non conoscevo questa zona. Devo dire che aver fatto questa scelta di investire in una struttura come questa, sicuramente è una scelta molto importante, e chiunque l'abbia fatta va un applauso, perché è bello trovare dei teatri nuovi, perché il teatro ha bisogno di costruzione per poter continuare. Dai teatri romani, negli anfiteatri, siamo passati a strutture come queste, e questo fa capire che il teatro potrà vivere ancora nel tempo. E la zona è bellissima, il teatro è bellissimo, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza di questo spazio, perché si merita bei successi e bei gli spettacoli. Grazie.